La dodicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato le eccellenze del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli amiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti TV, l'emittente punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in un 325 paesi. Studio professionale dell'anno Consulenza del Lavoro. E il premio va a Caffasso Enfigli. Un bel applauso. Eccolo, che arriva. Per essere in grado di fornire ai propri clienti servizi ad alto valore aggiunto, di rendere con impegno e competenza tutte le sfide che si presentano quotidianamente ai nostri imprenditori, con il preciso intento di rivolgersi al mercato globale della Consulenza del Lavoro. Eccolo qui. Complimenti. E grazie per essere con noi questa sera. Complimenti per il premio. Siamo in compagnia del dottor Nino Carmine Caffasso, fondatore dello studio Caffasso e Figli. Benvenuto. Buonasera. Dottor Caffasso, questa sera avete riconfermato la vostra eccellenza nel settore della Consulenza del Lavoro. Ecco, le chiedo un commento a questo riconoscimento. Per noi è un rientro che con piacere raccogliamo. Sono comunque dei momenti significativi che naturalmente ci portano anche a comprendere che la strada avviata è una strada coerente anche nel rispetto di quelli che sono dei dogmi ai quali noi da sempre abbiamo puntato. Ecco, il lavoro è un po' uno dei settori su cui si sta occupando il governo con dei provvedimenti. Ecco, le chiedo a questo proposito se secondo lei, diciamo, la strada che sta intraprendendo il governo e i provvedimenti che ha messo in campo e che intende mettere in campo possono essere efficaci a risolvere un po' le problematiche, diciamo, che attanaiano questo settore o meno. Guardi, io credo che siamo un po' sulla strada giusta. Probabilmente potrebbe sembrare di parte il mio commento perché la nuova Ministra del Lavoro è la ex Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ritengo che sia un momento nel quale il governo sta portando avanti un ragionamento significativo per sviluppare un'economia che era abbastanza ferma e soprattutto per incentivare gli imprenditori a scegliere una strada che possa essere anche quella non necessariamente del danaro nei confronti dei lavoratori, ma con provvedimenti di welfare che costituiscono poi alla fine anche dei momenti di circolarizzazione importante dell'economia ad ogni livello. Per il 2023, le chiedo, quali sono i progetti che avete in cantiere? Noi nel 2023 pensiamo di riaffermarci tra le prime forze italiane e questo lo dico con una punta di consapevolezza e mai con immodestia. Proviamo a scegliere la strada della continuità, apriremo altre sedi, una di recente l'abbiamo aperta a Bari, cercheremo di essere sempre più presenti nel territorio e di spingerci anche all'estero con l'apertura di una sede ad Hamburgo. Puntiamo naturalmente molto al public business e quindi alle gare con le pubbliche amministrazioni che riteniamo oggi siano anche rispetto ai privati un momento di maggiore attenzione da parte di noi consulenti del lavoro allo sviluppo di un mondo che normalmente è sempre stato meno attento a quelle che erano le problematiche della consulenza del lavoro e che oggi si affaccia a misurarsi in questo contesto anche in funzione di una serie di logiche che sono sostanzialmente modificate rispetto ad un mondo che è cambiato già quando la stessa ex-Inpdap è stata assorbita all'impso.